Prima notte c'è un nuovo pilota? ah si 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 ok aspetta ma ancora ma ancora c'è Cristian ai 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 chi li prende? non lo so perché li prendi pauli? non ho detto che li prendo pauli non ho detto che non ho fatto i capelli moscia ho pauli oddio se i capelli dritti come una settimana di Skype erano brutte però non ho detto ok 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 no 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 non ho bisogno di un po' di chat Oh, stop. Oh, stop. Oh, stop. Oh, stop. Oh, stop. Oh, stop. Jin Kazama. Alisa Baskin-Rich. Oh, stop. Il sigilo è tuo, la rena. Ok, dai, sono fatto la cosa. Vediamo la coniglia. Con quella di una canzone. Ok, ok. Ok, c'è una combo. Guarda la faccia. Guarda la vera. Guarda la vera. Guarda qui, guarda qui. Ai vilike. Sì, sì, sì. Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Grazie a tutti